Flavia Salomone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E benvenuta davvero qui nel posto delle parole, anzi bentornata, questa volta per raccontare di un certo signore chiamato Darwin. Flavia Salomone è biologa, antropologa fisica e quindi parla con cognizione di causa su questo argomento per farci incontrare questa straordinaria figura che è Charles Darwin. Partiamo ovviamente da un libro, ovvero le conversazioni sull'origine dell'uomo 150 anni dopo Darwin. Certo che, Flavia Salomone, il titolo è molto ambizioso, conversazioni sull'origine dell'uomo. È una bella cosa. Assolutamente sì. Beh, il titolo racconta un po' come la natura di questo libro. L'anno scorso erano esattamente 150 anni dalla pubblicazione dell'origine dell'uomo di Charles Darwin che fu pubblicato a Londra nel 1871. Io e Fabio Di Vincenzo, che ha curato con me il volume, anche lui paleoantropologo, in forza ora al curatore del Museo di Antropologia dell'Università di Firenze, ci è avvenuta l'idea di festeggiare. In effetti questo volume è dedicato a Darwin, è un omaggio alla sua opera che per noi antropologi ovviamente è fondamentale. e abbiamo deciso di strutturare una serie di conversazioni, per l'appunto. 19. Esattamente, 19 conversazioni con 20 figure scientifiche molto importanti. Passiamo da Giorgio Manzi a Termo Pievani, da Rizzolatti a Barbugliani, poi ci sono tantissimi giovani ricercatori, c'è il professor Iosta di Napoli insieme al professor Raia. Quindi, insomma, abbiamo cercato, copriamo un po' anche tutta l'Italia, perché sono docenti che vengono da varie università, e con loro abbiamo cercato di ripercorrere, partendo dalle parole di Darwin, partendo dalle sue parole, abbiamo cercato di ridescrivere oggi, a 150 anni dalla pubblicazione della sua opera, il valore, l'importanza del suo pensiero nel mondo scientifico e come oggi ancora molto del suo pensiero sia estremamente attuale, molte delle sue intuazioni siano ancora un faro nel mondo scientifico e soprattutto nel mondo antropologico ovviamente. Eh sì, la parola intuizione è una parola importante, perché passa tutto, passa tutto da lì per attraversare il senso della scienza, il senso della ricerca, ma anche il senso del bello, no? Ricordo un capitolo di questo libro dedicato al senso del bello, ma a proposito di bellezza, tocchiamo la bellezza iconografica. La scelta di Pablo Echauren per raccontare queste conversazioni? Beh, è stata una scelta fortunata, perché l'artista in questo momento sta rivisitando un po' l'essere umano in quanto entità vivente e nel suo percorso di ricerca ha praticamente fatto un viaggio anche lui alla ricerca delle origini, dell'umanità, del senso dell'essere umano e attraverso, creando queste opere che sono delle scatole che ricordano molto Duchamp come impostazione, all'interno delle quali lui mette vari oggetti e è stato veramente una persona squisita, perché ci ha donato queste opere a corredo iconografico del volume e quindi noi abbiamo avuto la possibilità ovviamente insieme a lui di abbinare queste opere a ciascun argomento del libro, per cui ciascuno ha la sua scatola personalizzata che incarna un po' i contenuti stessi. Ma non avete mai pensato, non avete mai pensato, Flavia Salomone, di raccontare queste conversazioni attraverso queste scatole magiche, queste wunderkammer, possiamo chiamarle così, di Pablo Echauren? Beh sì, in qualche modo sì lo sono, ricordano molto, perché sono un insieme di oggetti di natura diversa che vogliono raccontare una storia. Beh sì, ci abbiamo pensato, in effetti c'è in embrione l'idea di organizzare una mostra proprio con queste opere, ma ancora è work in progress. Ma certamente, tra l'altro ricordiamo che il libro Conversazioni sull'origine dell'uomo, 150 anni dopo Darwin, è pubblicato dalla casa editrice Espera, che è una casa editrice specializzata in pubblicazioni accademiche, soprattutto di carattere storico, archeologico e antropologico, quindi nasce il libro veramente in una casa che ha una certa attenzione molto importante su quello che è la ricerca. Ma adesso andiamo a incontrare le varie conversazioni, sono 19 come abbiamo già ascoltato dalle parole della nostra ospite Flavia Salomone, ma in che modo sono stati trovati gli interlocutori per conversare su Darwin? Beh, ovviamente li abbiamo cercati in base anche alla loro attività, il loro impegno in campo scientifico e anche in base alle loro connessioni con il mondo darwiniano. L'opera di Darwin, ovviamente L'origine dell'uomo, spazia un po' in tutto il kaleidoscopio delle sfaccettature dell'essere umano, quindi in quest'opera Darwin indaga tantissimi aspetti, da quello delle origini a quello della trasmissione dei caratteri, consideriamo che Darwin non sapeva nulla di genetica, affronta il tema della diversità, quindi della biodiversità come ricchezza per la natura, da qui l'esigenza di conversare con Guido Barbugliani che è un genetista che si occupa di popolazioni, che ci racconta il racconto dei geni del passato o con Destro Bisol che invece anche lui è un antropologo molecolare, un antropologo del vivente che si occupa appunto dello studio delle popolazioni e della biodiversità delle popolazioni, lui è fondato il manifesto sulla biodiversità proprio delle popolazioni contrapponendolo al manifesto della razza che ci porta indietro in un periodo molto triste della nostra storia e poi abbiamo affrontato tutti gli aspetti legati alla parte culturale dell'essere umano, quindi abbiamo indagato con una serie di filosofi della scienza, varie tematiche che vanno dagli ambienti intesi non solo come ambienti ecologici ma anche come ambienti esistenziali a la ricerca del senso del bello, come si è evoluto il senso del bello nella storia dell'umanità o il senso della morale. Darwin stesso nella sua opera parla di morale, parla di etica riferendosi anche al mondo animale, poi abbiamo ovviamente indagato l'evoluzione del linguaggio con greco oppure abbiamo ulteriormente approfondito le tematiche delle diversità culturali, dell'evoluzione della specie umana dal punto di vista culturale immergendosi in un ipotetico futuro con il professor Aime che è appunto un antropologo culturale, poi abbiamo affrontato il tema dell'empatia, Darwin nell'opera parla spessissimo e tantissimo della simpatia e dell'empatia tanto che poi dedicherà un volume a parte proprio alle emozioni, all'espressione delle emozioni e quanto questo sia estremamente importante nella coesione di un gruppo, nel creare l'affettività e lo abbiamo indagato in parte con il professor Fantini ma in parte anche con il professor Rizzolatti e la dottoressa Fabri Testro. Il professor Rizzolatti ricordo per chi non lo sa è colui che ha scoperto il meccanismo dei neuroni specchio che sono alla base appunto delle nostre relazioni empatiche, affettive e emotive. E così via con il professor Iossa abbiamo indagato la relazione, l'importanza dell'evoluzione dei linguaggi musicali e della musica nella vita dell'essere umano e come la musica sia stata in qualche modo alla base anche della costruzione del nostro linguaggio che poi si è evoluto in un linguaggio articolato. E quindi poi in tanti tanti altri con il professor Mazzini abbiamo indagato appunto l'importanza dei nostri antenati, quindi il valore che i fossili ci restituiscono per ricostruire la storia dell'umanità con Telmo Pievani che penso sia abbastanza noto perché è un grandissimo divulgatore e adesso ha anche un programma su Rai 3. Abbiamo indagato anche proprio il problema delle origini, quanto è importante per l'essere umano le sue origini, quindi andare alla ricerca delle nostre radici e così via insomma. E così via perché poi è un territorio infinito, è un territorio infinito quando ci si mette dentro lo studio della ricerca sull'uomo grazie a Charles Darwin e credo che sia molto importante questo libro che si apre con la parola origine e si chiude con la parola futuro ed è una parabola importante perché se vuoi capire il presente, il futuro devi andare all'origine altrimenti sei fuori strada. Assolutamente sì, una cosa che ci tengo a dire è che sono conversazioni veramente alla portata di tutti, è un libro che uno può leggersi senza, il filo conduttore è l'essere umano però uno può approfondire di volta in volta l'argomento che preferisce. L'impostazione che abbiamo dato proprio di conversazioni, quindi delle brevi interviste ha proprio la funzione di rendere argomenti anche complessi in una maniera estremamente semplice. E allora arriviamo alla semplicità che non esclude la profondità ovviamente, questo è un libro che potrebbe essere raccontato in classe agli studenti, Flavia Salomone. Assolutamente sì, magari, magari le scuole adottassero soprattutto gli istituti superiori questo testo perché è un testo trasversale, si parla di biologia, si parla di zoologia, si parla di cultura, si parla di evoluzione, si parla di filosofia, quindi è sicuramente un testo di parla di musica, sicuramente un testo che può servire veramente in maniera trasversale, soprattutto per abituare i giovani a interrogarsi, a interrogarsi su se stessi, a interrogarsi sulle proprie relazioni nel mondo, sul proprio posto nel mondo, perché è qualcosa che forse ultimamente abbiamo un po' perso, il legame diretto con l'ambiente, il nostro enorme sviluppo culturale, tecnologico ci ha in qualche modo allontanato in maniera più o meno inconsapevole a quella che è la nostra natura, che è quella di essere degli animali, degli esseri viventi inseriti all'interno di un sistema che funziona bene solo se è in equilibrio. Abbiamo di fronte a noi delle sfide enormi, il cambiamento climatico, la giustizia sociale, la ridistribuzione delle ricchezze, delle economie, quindi secondo me è estremamente importante, soprattutto come punto per costruirsi ciascuno una propria identità anche dal punto di vista culturale e quindi anche di prospettive proprio per il futuro. Come si fa a costruirsi l'identità culturale, Flavia Salomone? Beh, in parte la nostra identità culturale ci viene trasmessa dall'educazione, no? Ognuno di noi ha un percorso scolastico inserito all'interno di un contesto sociale che inevitabilmente esprime delle caratteristiche culturali, però noi siamo un mondo in grande espansione, in grande evoluzione, un mondo che sta diventando sempre più multietnico, quindi secondo me è importante aprirsi alla diversità. Darwin la considerava un aspetto fondamentale per l'evoluzione delle specie e invece quello che si vede ora è una sorta che mi addolora profondamente, una sorta di paura verso chi non è come noi, chi ha culture diverse dalle nostre e invece solo nella ricchezza, nello scambio, nel rispetto poi ovviamente di ciascuna tradizione, di ciascuna identità, uno scambio può rafforzarci perché tutti noi possiamo prendere dalle culture degli altri qualcosa che ci può aiutare a camminare e a crescere e ad evolverci, quindi credo che sia molto importante educare soprattutto i giovani a una maggiore profondità e a una maggiore riflessione e anche a uno spirito critico che non sia i commenti sui social ma sia uno spirito critico che nasca da appunto un processo di riflessione profondo, un processo di lettura e di discussione. Oppure anche attraverso la partecipazione diciamo pure leggera dei social, introdurre quell'elemento critico per arrivare poi a un confronto perché i social sono importantissimi per la condivisione e per la leggerezza e nella profondità nello stesso tempo, quindi è una porta tutta quanta da sfruttare e dobbiamo superarla noi per fare i nostri messaggi leggermente un pochino più profondi, un pochino più impegnati, forse anche un po' un pochino più seri. Flavia Salomone, il discorso su Charles Darwin è un discorso infinito perché la ricerca, la scienza è una cosa infinita, tuttavia ha sempre e in ogni modo anche dei contrasti, ovvero anche qui dei negazionisti e come la mettiamo? Beh, come la mettiamo? Purtroppo Darwin è entrato nel mondo culturale, ovviamente lui è figlio del suo tempo, quindi Darwin nasce nell'800, nell'809, in epoca si sviluppa, si cresce, si sviluppa, lavora, elabora la sua teoria sull'evoluzione in ambiente vittoriano, quindi con un'impostazione culturale già ben definita, però tuttavia lui ha il coraggio delle sue idee e quindi pubblicando queste opere lui si inserisce un po' anche in una maniera abbastanza importante, imponente, un po' anche deflagrante all'interno del dibattito culturale dell'epoca che era molto acceso su queste tematiche perché ovviamente era forte l'impostazione creazionista che ancora è molto forte in alcune sacche culturali e lui con la semplicità dei grandi, con la forza anche dei grandi dice semplicemente quello che ha potuto osservare e lo prova perché nelle sue opere ci sono continui confronti, continui analisi e osservazioni e dimostrazioni che quello che si osserva al fondo è proprio così e quindi poi dopo sta alla persona, alla luce, all'illuminazione della persona. Io non vedo nessun conflitto con la creazione diciamo dal punto di vista religioso e il pensiero scientifico, ma il pensiero scientifico viaggia sulla sua strada nel senso ha bisogno di prove, ha bisogno di testimonianze e quando ci sono delle prove e degli esperimenti che dimostrano determinate situazioni fino a prova contraria bisognerebbe fidarsi di più della scienza. Flavia Salomone, certo lei dice fidarsi di più della scienza e mai come in questi tempi abbiamo toccato con mano che dobbiamo fidarci della scienza, la scienza non ha risposte certe sempre, la scienza anche qui va per tentativi, come è andato per tentativi? Per intuizione, per intuizione è lo stesso Charles Darwin e leggere queste conversazioni ci porta a comprendere quanto sia necessaria la scienza. Ricordo il libro pubblicato dalla Casa di Riccia e Spera, conversazione sull'origine dell'uomo, 150 anni dopo Darwin, 19 conversazioni a cura di Flavia Salomone e Fabio Di Vincenzo con le immagini di Pablo e Ciauren. Prima di salutarci in 30 secondi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni il libro che mi fa compagnia è La Preistoria e Donna, una storia sull'imbraccio visibilità delle donne. Quindi siamo sempre nel tema della ricerca, ovviamente, ricordo questo libro è pubblicato dalla casa editrice Giunti e di Marilene Patumatis, l'autrice. Intanto grazie, grazie davvero Flavia Salomone per il tempo che ci ha dedicato. e buonissime letture. A presto. A presto, grazie.